benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa e vangelo sono vestito in rosa come vedete per solidarietà con i produttori anzi distributori italiani del film gran premio della giuria al festival di can 120 battiti al minuto questi distributori sono rimasti male perché non hanno incassato soldi voi sapete che il mondo lgbt è un pochino attaccato ai denari quindi questi hanno fatto un buco nell'acqua e poi se la sono presa con me è uscita un articolo sul fatto quotidiano dicendo una frase di questo genere vado sul fatto cerco di recuperarla questo film è da una parte ad inolfi dall'altra questa volta ha vinto ad inolfi s'abituassero ecco questo sono solitale mi vesto in rosa perché nel manifesto c'è un ragazzo gay il film ha fatto tanto piangere pedro al modo varra che l'ha subito premiato col gran premio della giuria ma in italia nisba in italia non l'è andata a vedere nessuno e dicono che ha vinta di nolfi tutta una polemica sul fatto quotidiano su effington post su gay.it e insomma ragazzi vinciamo noi non c'è niente da fare una lobby non può trasformarsi in un popolo una lobby non può trasformarsi in un popolo lo diciamo con una qualche chiarezza saluto alessandra mondelli non è fucsia è proprio rosa rosa porcello diciamo perché oggi c'è da parlare di porcellate varie che arrivano da hollywood e insomma a luca cipriani parla di rosa agghiacciante insomma rosa rosa porcello diciamo così mirco dei carli ma che si devono abituare ad inolfi che vince e vinceremo noi non c'è niente da fare una lobby non è un popolo e lo doveva sapere il produttore il distributore italiano di questo film che pare vincerà l'oscar perché ovviamente poi la lobby si sa muovere in contesti ho provato a spiegare ieri in contesti chiusi in contesti non democratici in contesti dove il popolo non c'è quindi il contesto mediatico magari il contesto parlamentare il contesto giornalistico il contesto televisivo la lobby si sa muovere molto bene la lobby sa magari andare a vincere l'oscar con questo film però in sala non lo va a vedere nessuno perché una lobby non è popolo buongiorno a pamela ti piace il mio rosa pamela un saluto ad alessandra mondelli che dice invitiamo e condividiamo la puntata avrà sicuramente farà discutere quindi vedete verrà in diretta mi piace e condividi se non avete il tasto condividi è importante invitare direttamente gli amici a partecipare alla diretta soprattutto mi piace per far partire l'algoritmo di facebook e difendersi dai soliti haters che cercano di farci saltare per aria saluto vincenzo quinto massimo bellisario mamma mia quanti quanti nomi nicola basile claudio polsinetti da brescia claudia brignoli andrew clemens roberto pa roberta palmigiani faustino cogliandro massimo pistoia che ci segue dal pdf di cesena andrew clemens l'ho detto ci scrive dall'australia ci segue dall'australia bobac falamachi buongiorno mario a me quel colore piace un sacco se la canta le se la suonano man manco loro ballano ecco danilo bassan viva la maglia rosa di mario pdf padova saluto stefano aurelio ci vediamo con locum tour a novara con stefano antonio grauso il 28 ci vediamo 28 di di ottobre saluto massimiliano amato e gianfranco che è stato protagonista di un'iniziativa di sostegno a giovanni fiori nel municipio roma 10 di roma ricordiamoci siamo candidati con giovanni fiori alla presidenza in una delle città la quattordicesima città più popolosa d'italia municipio roma 10 chiunque abbia amici faccia votare giovanni fiori una croce sul simbolo del popolo la famiglia arrivato anche nicola di matteo il nostro coordinatore nazionale saluto danilo leonardi gente autoriferita che pensa di essere il mondo intero e parecchi predi fanno da corona esattamente così ha ragione danilo leonardi arriva l'anfranco lincetto il nostro dominus in friuli venezia giulia il più alto in grado di tutti noi del popolo la famiglia un vice sindaco eletto ragazzi è del popolo la famiglia ciao l'anfranco saluto isabella emeri vladimiro campello parla di rosa gazzetta c'è biele marconi c'è simone lelli allora ci andiamo a leggere il la pagina del vangelo di oggi che è bellissima perché la pagina della preghiera è la pagina della preghiera la conoscete tutti molto bene questa pagina il primi quattro versetti dell'undicesimo capitolo del vangelo di luca un giorno gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse signore insegnaci a pregare come anche giovanni ha insegnato ai suoi discepoli ed egli disse loro quando pregate dite padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci oggi il nostro pane quotidiano perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione quattro versetti che sono scolpiti nel cuore di ciascuno di noi che sono la storia e la radice del nostro essere che anche chi bestemmia conosce e guardate la bellezza quattro versetti sono quattro frasi la bellezza e la potenza di questa preghiera che santifica il nome di dio invocando nell'arrivo del regno chiede il pane concretezza invochi il regno di dio santifichi il nome di dio in una dimensione metafisica trascendentale che immediatamente si cala nella richiesta del pane dacci oggi il nostro pane perdonare i peccati è la richiesta fondamentale ma perché questo venga poi dopo insegnato a noi affinché noi siamo in grado di perdonare i nostri debitori e poi la richiesta di non essere indotti in tentazione visto che siamo flebili deboli esseri umani fallibili peccatori saluto giovanni fiori il nostro candidato presidente a municipio roma 10 roberta palmigiani ci ricorda che alle 16 il 29 ottobre ci vediamo in corso dante 14 a torino mentre il 28 ottobre ci incontriamo a novara mi pare alle ore 21 sì a novara alle ore 21 il 28 di ottobre ricordo a tutti però che l'appuntamento più rilevante del tour è sicuramente quello di sabato prossimo con costanza miriano padre morizio botta marco scicchitano e ovviamente me stesso al teatro sala umberto di roma un teatro che a roma è la il salotto della capitale dal 1882 500 posti per seguire uno degli eventi dell'anno il ritorno dei quattro moschettieri per un giorno solo sabato alle 11 a al teatro sala umberto di via della mercede che accanto a piazza san silvestro nel cuore del cuore di roma qualcosa davvero da non perdere un unicum non ci saranno altre date con i quattro moschettieri e dunque davvero chi vuole chi può non perda l'occasione per venire a visitare questa davvero questa momentanea come direbbero i pink floyd momentary lapse of reason in cui tutti noi insomma perderemo ragione perché saremo felici di ritrovare appunto i quattro moschettieri alla via della mercede 50 come ricorda anche nicola di matteo saluto casperina analiggiato gloria gallarelli gaetana gallo allora oggi andiamo a parlare di questo caso dovremmo parlare di rosatello non dovremmo parlare di indipendenza catalana però insomma abbiamo già fatto queste puntate oggi vorrei farvi una puntata su un fatto di costume che è molto interessante perché come al solito quando una persona rotola nella polvere in questo caso stiamo parlando del produttore hollywoodiano harvey winstein dopo decenni di potere strapotere del sistema hollywoodiano arriva il calcio dell'asino dei diciamo così di quelli che si ricordano di essere tipo asi argento che una dozzina d'anni fa pare sia stata molestata le dice stuprata da questo produttore americano e con essa una marea di attrici attricette da milioni di dollari e che si sono improvvisamente ritrovata a ricordare la memoria la dichiarazione più interessante è quella della fustigatrice dei costumi di hollywood che si chiama il strip che ogni discorso ti fa la pappardella ogni oscar grandissima attrice è straordinario a ogni oscar a ogni occasione di raduno di quelli di hollywood ti fa la pappardella con la la lezione ovviamente anti trump sempre a sostegno del potere costituito tipo hillary clinton insomma io in questa occasione c'è un problema che a mary strip deve moltissimo della sua carriera ad harvey winstein e allora cosa dichiara non ero al corrente di questi altri comportamenti di natura illecita non avevo idea degli accordi economici con attrice e colleghi non sapevo degli incontri nella sua camera d'albergo in bagni o di altri atti inappropriati di natura coercitiva ora il caso di erwin winstein è come dire un cliché produttore ricco grasso talmente però determinante per le carriere attrici da fare qualsiasi cosa voglia alle sue attrici era un cliché tant'è che il signore in questione viene persino ritratto in questo diciamo tentativo di stupro nello stesso film prodotto da asi argento che oggi asi argento ci dice riproduce la violenza subita d'opera di questo produttore quindi era talmente cliché che finiva pure nelle scene delle violentate nessuno aveva il coraggio quando il signore era potente quando il signore era il dominus che faceva vincere a roberto benigni la vita è bella l'oscar eccetera eccetera faceva diventare un colosso del cinema mondiale nessuno gli aveva niente da dire anche i clinton prendevano i soldi darwin winstein ci informa gabbiana marconi tutto il partito democratico americano ora tramonta la stagione dei clinton tramonta la stagione di hillary tramonta un'epoca diciamo così dei rapporti fra hollywood del partito democratico e guarda un po emergono le malefatte sessuali di harvey winstein con gwyneth paltrow con angelina jolie con super super superstar che guadagnano decine di milioni di dollari che però poverine erano talmente terrorizzate da non riuscire a parlare con decine e decine di milioni di dollari nel conto in banca quando invece va nella polvere e tutte improvvisamente ritrovano la memoria tutte improvvisamente ritrovano la memoria allora ovviamente ovunque troverete esecrabile harvey winstein poverette le le attrici che sono state molestate io voglio dire lo dico oggi qui che non ci sono innocenze in questa storia non ci sono innocenze e danilo leonardi dice benissimo è l'oltraggio dei codardi questo gabbiele marconi ricorda che winstein era amicissimo di michelle obama la famiglia obama non ha ancora preso le 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 distanze è finita una stagione con la inopinata sconfitta di obama degli hillary clinton del partito democratico travolto quel mondo viene travolto anche harvey winstein che si appoggiava su quel mondo pagandolo pagandolo a caro prezzo travolto quel mondo improvvisamente mary strip si accorge che c'erano comportamenti di natura illecita non aveva mai sentito parlare poverina poverina mary strip sta da decenni in quel mondo è una delle icone assolute di quel mondo una delle principali attrice beneficiate darwin winstein ma lei non aveva mai sentito parlare di comportamenti di natura illecita dichiarazione diciamo così non ero al corrente di comportamenti di natura illecita non ero al corrente poverina che mi ha scoperto tutto adesso è credibile questa gente allora io vi dico all'intersezione tra mondo dello spettacolo e potere c'è sempre molto spesso diciamo così una vicenda di sesso è purtroppo anche la mia esperienza all'interno del mondo dello spettacolo e della informazione della rai di mediaset è una questione come dire automatica è un cliché quando mi dicono o sorpresa il produttore fa pesare i propri diritti o berlusconi si porta a letto le starlette è una notizia che vi sorprende come dice con la gloria gallarelli fa schifo certo fa schifo ma non siete sorpresi non siete sorpresi voi non c'entrate niente non avete mai frequentato quei mondi io che l'ho frequentato quel mondo vi assicuro non ci sono innocenze in questa vicenda il racconto del produttore cattivo che stupra le ragazze buone non è la storia corretta perché altrimenti le ragazze buone almeno una di queste in questi decenni in cui questo produttore le aveva molestate con le tasche piene di milioni quindi libere libere perché dopo che hai preso 12 milioni per un film 15 milioni per un film sei abbastanza libero di dire qualcos'è che non va se non lo fai è perché tu vuoi prendere 15 milioni anche al film successivo e quindi l'intersezione tra sesso potere denaro successo è un'intersezione che rende tutti colpevoli tutti colpevoli non ci sono innocenze lo stella paura intanto ieri sera ha inconosciuto giovanni fiori nostro candidato alla presidenza di roma dieci persona eccellente è davvero noi abbiamo una classe dirigente eccellente per questo dovete votare popolo la famiglia al municipio roma dieci e alle elezioni politiche ormai si stanno avvicinando il rosatellum andrà oggi in aula ci sarà il primo caos per il voto di fiducia i primi tre voti di fiducia sui primi tre articoli ma potrebbe veramente andare in porto dopo arriveranno le elezioni allora c'è questa patrizia capasso che ovviamente non è patrizia capasso è un fake che viene qui a trollare quando vedete i nomi femminili che vengono e trollano cioè fanno ripetuti commenti c'è una pagina che ha indicato dei criteri per venire a trollare la mia pagina tra i criteri è quello di variare un profilo fake di natura femminile di dirsi anche cattolici quando si viene a trollare quindi se non sbaglio lei in qualche passaggio ha scritto anche questo insomma lei non è una lei è ovviamente un lui e ovviamente un fuori di testa che non ha nulla da fare al mattino presto però è qui ascoltato una pagina del vangelo ascoltato il padre nostro e dunque ascolteremo anche la sua il suo delirio ho voglia di rovinarvi la vita intanto si sta rovinando la propria perché con una giornata così bella col sole straordinario se sta qui a perdere tempo vuol dire che la propria è sicuramente rovinata ti salteranno addosso per quello che hai detto scrive anna certo verremo criticati ma come al solito abbiamo detto la verità e non la diciamo per gusto di essere per epatele bourgeois diciamo così diciamo la verità perché bisogna conoscere questi meccanismi e farli conoscere e allora non credete a chi vi racconta sui giornali oggi dell'orco cattivo contro le attrici buone perché non funziona così è un sistema talmente enorme di denari di denari perché stiamo parlando di decine di milioni di euro di cachet a film per ogni singola attrice che questo giro di denari ha come dire costruito un sistema vero e proprio in cui non ci sono innocenze quello che oggi nella polvere dovrebbe trascinare nella polvere con sé anche queste signorine che quando c'era da guadagnare stavano zitte e oggi che lo vedono morto fanno le eroine è questo proprio inaccettabile questo è culturalmente inaccettabile e poiché la verità ci renderà liberi come dice maria letizia quattrini citando il vangelo evidentemente noi con questa presa di posizione indichiamo una strada di verità per il racconto di questi fatti è una strada siamo dentro stampa e vangelo di contro informazione perché un'informazione che racconta che ci sta il cattivo e gli altri subiscono perché sono povenini deboli è una storia che proprio in questa vicenda non ha nulla a che fare non ha nulla a che fare da lì non ardi dice un'eterna storia chi vende se stesso per i soldi e il potere anche i preti che lo fanno non sono non ci raccontino che sono innocenti evidentemente non lo sono saluto anche floriano liberati saluto monica vitali quello che dobbiamo stabilire raccontare penso con una certa rilevanza è la necessità di ritornare a comportamenti eticamente e moralmente evidentemente forti se non hai radice forte il primo winstein che passa ti usa e ti compra è inevitabile marco rapetti a rigoni dice che correttamente c'è una convergenza di interessi una vallettopoli hollywoodiana c'è anche maria rosa ferraresi carlo meconi ci ricorda il 13 ottobre 17 30 noi tutti saremo impegnati nel rosario per il centenario dell'ultima apparizione mariana a fatima mauro ghila dice se il primo il rapporto era consensiente dove sarebbe lo stupro facciamo sta questo questo dettaglio evidentemente francesca buono ora devono guadagnarci ancora di più dal morto e questo è bella lavanda dice chi è sano ama la verità carla stefanini quello che ho pensato ieri sera ma si ricordano di essere stato emolestato violentato dopo anni e anni a ditelo alla povera come si chiama quella asi argento sono passati 12 anni sta memoria come funziona come funziona sta memoria selettiva insomma se si accende quando sui giornali conviene raccontare diciamo così lì lì costo mi dice ti banneranno di nuovo perché la verità fa male se mi banneranno di nuovo saremo nuovamente bannati ma questi sono dati oggettivi qualcuno le deve dire qualcuno lo deve dire non accetto questa unidirezionalità dell'informazione che prova a raccontare che gwyneth paltrow gwyneth paltrow cioè la figlia di una dinastia hollywoodiana fosse una povera tenerella che ha subito la violenza perché non era incapace era incapace di difendersi gwyneth paltrow finanziata di brad pitt in quel momento peraltro c'è una potenza assoluta hollywood stanno zitti perché stare zitti conviene conviene economicamente perché c'è il denaro che compra le loro esistenze e il loro silenzio e ovviamente poi il produttore porco può fare a queste quello che gli pare non ci sono innocenze dentro questi sistemi chiusi non ci sono innocenze guardate come si è lamentata la produttrice la di questo film 120 battiti al minuto ci ha vinto ad inolfi ha vinto ad inolfi scrive il fatto quotidiano perché voi siete qualcosa di inconsistente pensate solo ai denari non avete una prospettiva valoriale siete una piccola lobby che pensa alle proprie condizioni di vantaggio davanti a questo signori miei sarete sempre guardati da noi che siamo popolo da noi che siamo popolo con inevitabile sguardo che non è di giudizio ma perché ci vogliamo salvare l'anima non vogliamo essere come voi non vogliamo davvero essere come voi perché dice stefano fanelli giustamente il denaro gli compra anche l'anima saluto alberto agus saluto angelo zizzi saluto raffaella greco certo sono solo soldi roberta palmigiani il dio denaro rovina le coscienze alberto agus cita come ha già fatto nicola di matteo la scelta fondamentale o dio o mammona questa è la scelta fondamentale che devi fare nella vita o dio o mammona non abbiamo altro che questo fare una scelta molto secca fondamentale poi si può vivere in ogni condizione ma la scelta fondamentale deve essere o dio o mammona vendono l'anima al demonio dice alessandra tumino ed è un dato di fatto saluto anche alex zino finori che è arrivato a connettersi alla trasmissione di oggi c'è alessandro margiotta che dice ritorniamo ai valori per un nuovo umanesimo ricordo che il 12 di gennaio sarò a rimini con alessandro margiotta per una data della o capiamo o moriamo tour c'è caterina braccini magari fossero solo gli adulti a essere coinvolti a hollywood fatevi un giro sul blog di maurizio blonde c'è lorenzo damiano io scelgo la libertà con gesù carmen ricci manuela laureti buongiorno maledetto denaro è vero dio mammona antonietta de jeso prima si vendono poi la chiamano violenza rossanna barbato ormai evidente sono tutti venduti simon pietro carta prima ci si costituisce per denaro e poi chiedono i danni sempre per denaro paolo bartossi ciao mani un abbraccio forte un abbraccio anche a te paolo un abbraccio a francesco un abbraccio a gennaio rossi nicola di matteo dice però che chiacchiere più fatti domenico gallo cita l'esempio di claudia colla che ora è una persona nuova grazie davvero a dio vito di lorenzo prima accettano tutto poi al momento opportuno fanno le vittime c'è paola porrega non se ne può più alberto olivieri buongiorno a tutti i presenti saluto anche io alberto olivieri allora questo testimonianza questo fatto è un'altra occasione per il popolo la famiglia tanto guardate l'angelo che ci protegge sempre alle spalle l'angelo custode ci costudisce sempre so che ogni tanto vi fa piacere vederlo don francesco colamonaco dice denaro è anche sinonimo di ricatto bravo bravo don francesco c'è anna russo c'è anna del guerra c'è roberto bruno c'è andrà valerio c'è paola perissinotto c'è giulio di santo soldi sesso successo sono le tre tentazioni di cristo puoi pensare a qualcos'altro tutto gira intorno a queste tre tentazioni giuseppe focone dice di che cosa vi meravigliate la meraviglia nella descrizione dell'informazione dei giornali di oggi e dei giornali italiani e dei giornali in tutto il mondo che può raccontare un mondo diviso in buoni e cattivi in cui il cattivone solo il produttore ormai rotolando nella polvere maryl strip ci dà la lezione dicendo non ero al corrente di questi comportamenti di natura illecita dopo essere stata 30 anni affiancata a harvey winston in ogni momento della sua vita a hollywood dai signori miei ma veramente volete fare sempre la predica da santi non ammettete mai sì sapevamo benissimo che questo era l'andazzo ma stavamo zitti perché i soldi ci hanno comprato la parola questa è la verità e la verità la gridiamo noi se non la sapete dire voi non ci raccontate le puttanate non ero al corrente di questi comportamenti natura illecita ma figuriamoci ma figuriamoci ma è ovvio che erano tutti al corrente tutti sapevano un ambiente chiusissimo dove quelli che guadagnano 12 15 milioni di dollari sono 50 mica 50 mila e dunque si sa benissimo che harvey winston si comportava così e roberto benigni dove sta la vita è bella quando parla e a sergento veramente ci vuoi raccontare la fregnaccia che tu adesso 12 anni dopo ti sveglio dio ma violentata siete stati zitti perché quello era un uomo potente e i suoi denari hanno comprato il vostro silenzio perché siete venduti al denaro e il sesso l'avete utilizzato come tramite per questa per l'ottenimento del successo questo è il dato di fatto questo è il racconto è inutile che parliamo d'altro il potere vero dice francesca sciagui è lontano da qualsiasi eccesso sesso droghe alcol c alcol cibo chi è pontente non è schiavo di nulla quello che voglio raccontare però è quello che veramente succede nei contesti del potere in realtà harvey winston aveva senza dubbio potere e senza dubbio utilizzava lo strumento sessuale derivante dal proprio potere era più grasso di me andava con le donne più belle del pianeta perché secondo voi perché era interessante o parlava bene d'arte perché deteneva la cassa che determinava i cachet milionari di queste ragazzine che adesso però fanno la predica e si mettono là e si ergono a difesa dei diritti e devo sentire mary strip che dice non era al corrente di questi comportamenti di natura illecita e alla prossima predica che ci farà alla notte degli oscar puntando il dito contro questo poveraccio ignobile porco strubatore evidentemente ma poveraccio perché ormai è morto professionalmente parlando alla prossima predica voglio vedere la a los angeles alzarsi in piedi qualcuno in quella platea di mary strip non hai dignità per poter fare prediche non hai alcuna dignità perché sei stata zitta quando potevi parlare tu e tutte quelle altre ho esagerato come al solito mi faccio un po prendere la mano e mi scuso con quelli che dovessero sentirsi offesi da questa che però è semplicemente una testimonianza appassionata che voglio rendere la verità dei fatti contro l'informazione ipocrita che prova a mescolarvi e darvi da mangiare una pietanza che è semplicemente avvelenata perché non è composta da elementi di verità è composta di elementi ideologici in cui si vuole raccontare la povera donna vittima del povero solito orco e non è andata così la storia non è questa la storia è un'altra e in questa storia non ci sono innocenze lo ripeto non ci sono innocenze don francesco colamona come benedice forse mi perdona dice vai bene tranquillo altrimenti moriamo è così o capiamo o moriamo e noi dobbiamo capire che queste questi comportamenti che sono ovviamente osceni terribili sono comportamenti che vanno cancellati e si cancellano solo tornando a dio tornando ai valori forti tornando a un rispetto di sé una dignità che è la propria che prescinde dal detimento del denaro e del potere altrimenti non andremo a nessuna parte questo mondo si schianterà davvero si schianterà davvero o capiamo o moriamo è questa la frontiera è questa la frontiera la una quarta dice sei solo vivo tranquillo solo i morti non si arrabbiano va bene saluto silvia indiati rossella paone maurizio merlotti alberto olivieri che dice che giuda era l'amministratore della cassa e non ha creduto alla misericordia di dio e alla fine si è ucciso e si è impiccato signori allora vi ricordo gli appuntamenti sono giorni per noi estremamente faticosi ieri c'è stato l'incontro con gianfranco amato per giovanni fiori candidato presidente eh al municipio roma dieci adesso stiamo lavorando oggi domani e dopo domani per l'organizzazione dell'iniziativa di sabato invitate tutti gli amici sarà un evento straordinario quello di sabato al teatro salomberto di roma il teatro storico della capitale dal 1882 un secolo e mezzo che eh siamo eh aperti al teatro salomberto e stavolta i protagonisti siamo noi quattro moschettieri andiamo a prendere possesso quelli dei falsi miti di progresso prendere possesso del teatro salomberto alle ore undici di sabato non perdete questa straordinaria giornata con costanza miliano padre maurizio botta marco scicchitano maria di nolfi per un solo giorno insieme sullo stesso palcoscenico per presentare o capiamo moriamo saluto a tiglio negrini saluto gasperina annaliggiato è arrivato anche don salvatore vitiello se cominciassimo a dire che tutte le violenze alla fine sono figlie dell'ateismo anche il femminicidio è figlio dell'ateismo bellissima riflessione di don salvatore vitiello c'è leonora nicotera che dice perché non si è già schiantato secondo me da un po' ciao sei un grande non sono grande sono solo grosso come harway winstein diciamo così che è un altro grosso diciamo così anche in altri sensi però lui è grosso di di tasca e questo forse l'ha rovinato saluto maria felicetti antonio lauletta dice venite anche a milano il 13 novembre la presentazione la facciamo a milano sono solo io però è al palazzo delle stelline 13 novembre a milano quello che devo dirvi che invece l'appuntamento con miriano botta scicchitano a una sola data 14 di ottobre teatro sala umberto ore 11 di sabato 14 tra tre giorni quindi non perdetevi questo appuntamento lilly costum dice venite anche in sardegna io vengo in sardegna basta mi invitate a dinolfi ghioccio a gmail.com per fare e organizzare qualsiasi iniziativa del capiamo moriamo turche il 28 ottobre lo ricorda alberto cerutti fa tappa anche a novara c'è alberto mori che dice ciascuno di noi mosso dall'imperativo categorico del dovere dobbiamo ascoltare la coscienza e non essere indifferenti è una buona riflessione cantiana saluto milena brindisi tra buona saluto stefano sabbi c'è gianluca marcucci che dice forse se argento vuole passare per santa maria coretti e fa proprio molta fatica diciamo così a passare per santa maria coretti saluto giacomo collotto che dice grazie da prato a prato promesso una tappa dello capiamo moriamo tur stefano farelli c'è in puglia quando abbiamo appena fatto tappa a bari siamo proprio partiti da bari dopo la tappa di riolo e dopo la tappa di ostia di casal palocco e siamo stati a bari la settimana scorsa dieci giorni fa saluto bobac falamachi maria beatrice ungaro e non ora nicotra dice a pisa non verrai mai sono stato a forte dei marmi adesso infatti i ragazzi di pisa sono arrivati a forte dei marmi ma se volete organizzare una tappa anche a pisa ci sarò sarò sicuramente di nuovo in toscana a gennaio quando farò la tappa di grosseto intanto abbiamo fatto forte dei marmi ed arezzo c'è maurizio quattro ciocchi c'è faustino con gli andro pietro di vicino dice il pride perché non vieni è che bella ripeto tre volte pietro di vicino ma vieni qui a trollare a fare l'imbecil comunque siamo felici di averti tra noi sei a stampa evangelo è mattina c'è un sole meraviglioso e tu devi avere una vita molto triste per passarla seguendo una trasmissione su facebook evidentemente perché non è proprio niente 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 di meglio da fare e quindi poiché questa tristezza ci in qualche modo commuove ti incontriamo e ti diamo il benvenuto tra noi raffaella greco ci saluta proprio da bari paola stefanini dice l'incontro di sabato scorso a forte dei marmi ha prodotto nuovi entusiasmi meno male sono molto contento lorenzo damiano chiede una preghiera per sua madre che in ospedale ovviamente tutti pregheremo per tua mamma caro lorenzo c'è luca cattani che ci saluta dal morgagni che immagino sia la scuola di roma saluto michele ferriani saluto mirta negri anna del guerra informa eleonora nicotera di contattare roberto mura che il nostro riferimento come popolo la famiglia a pisa saluto anche luisa david ogni bene che ci dà il buongiorno da viterbo territorio importante perché fra l'altro oltre le elezioni politiche il popolo la famiglia dovrà anche affrontare le elezioni amministrative regionali del lazio proprio insieme alle politiche come probabilmente si voterà anche in friuli venezia giulia probabilmente anche in lombardia per le regionali contestualmente alle elezioni politiche allora per la puntata di oggi siamo arrivati alla conclusione ricordatevi la vicenda del fatto quotidiano sul film della comunità lgbt che ha vinto il gran premio della palma de sto cavolo al festival di cannes arrivati in italia e poverini non ha fatto non ha fatto incasso e quindi sono lamentati ha detto ha vinta di nolfi non ha vinta di nolfi è che una lobby non è popolo questa è la prima frase di oggi la seconda frase quella legata alla narrazione che trovate sui giornali del caso arvin winstein è invece non ci sono innocenze se ti vendi al denaro il denaro ti rende colpevole in quelle condizioni se sei stato silente senza denunciare per anni una lobby non è popolo non ci sono innocenze questo è il messaggio che la puntata di stampa evangelo vuole dare ai nostri telespettatori qui di pdf tv chi vuole chi può faccia un mi piace un condividi la diretta invidi gli amici perché soprattutto questa è stata la puntata del padre nostro la pagina del vangelo del vangelo di luca in cui in quattro versetti cristo ci insegna a pregare e questa poi alla fine è la forza più bella di questa trasmissione alcuni messaggi che noi diamo ma soprattutto la lettura del vangelo oggi pagina straordinaria quattro versetti in cui cristo direttamente ci insegna a pregare giustamente danilo lonardi fa pubblicità la sua trasmissione una delle più seguite di pdf tv che si intitola dentro i fatti cattolici informazione stasera alle 20 seguite qui su pdf tv la trasmissione di danilo leonardi roberta palmigiani mi ricorda di portare il libro a torino certamente a ogni data del o capiamo moriamo tour ci saranno ovviamente i banchetti con il libro anna del guerra ricorda venerdì digiuno e rosario tutti uniti il 13 sicuramente faremo questo lavoro nel centenario dell'ultima apparizione mari mariana a fatima saluto andrea dolcini c'è anche sara pugliatti lucania corrado salonia che saluta tutti i siciliani che ci seguono numerosi attilio negrini l'ho già salutato vi ringrazio tutti noi ci ritroviamo e faccio anche i complimenti attilio negrini per la scrittura dei suoi delle sue interventi a c'è un post per te una trasmissione che viene condotta da silvio lucchetti e mauro rotunno dove attilio negrini ha una sua spazio molto piacevole secondo me anche di grande qualità di scrittura quindi volevo fare i complimenti personalmente ad attilio negrini glielo fatti anche in diretta durante la trasmissione saluto razzo filippelli che ci ricorda che oggi è la festa di san giovanni ventitresimo il papa protegga noi e tutto il pdf saluto anche marco di amicis che si è connesso in questo momento anna rita perra sarà deodati che è arrivata in ritardo e rivedrà la puntata dopo leonardo de stefano don francesco con la monaco da sacerdote ci ricorda preghiamo il santo rosario maria è la nostra carta vincente è davvero questo il messaggio più forte saluto gloria gallarelli anna russo dice che mi sta seguendo dal live e non dal palinzesto perché non c'era la notifica non lo so sentite la pongiluppi e chiedete perché non c'era la notifica sul sulla pdf tv o forse facebook non ha attivato la notifica qualche volta ci fa questo scherzetto saluto anche giuseppe di luongo un abbraccio a tutti voi ricordo l'appuntamento stampa il vangelo ogni mattina poco dopo le otto da maria di novi una buona giornata a tutti